I rigori sono una lotteria, oggi ci hanno premiato, sicuramente oggi un grande pensiero, un grande braccio va al nostro amico Tortello, la vittoria dello sport e oggi sicuramente va dedicata a lui e alla sua famiglia, gli siamo sicuramente molto vicini. Per quanto riguarda la partita è stata molto equilibrata, tutte e due le squadre secondo me meritavano di vincere. Ovviamente siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo che ad inizio del campionato sinceramente nessuno di noi pensava di poter raggiungere. L'organizzazione secondo me è stata di buon livello, sono molto soddisfatto, quindi faccio i complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa competizione che sicuramente negli anni diventerà una competizione importante. Adesso ci godiamo questa serata, domani festeggeremo, poi penseremo alla finale. Per quanto riguarda gli assenti, noi abbiamo una rosa molto ampia e sicuramente i giocatori di questa sera hanno ampiamente rimpiazzato le assenze, per cui siamo comunque soddisfatti. Grazie mille Presidente, ci vediamo il 19. Grazie.